Per chi non era presente al laboratorio scorso, volevo fare una piccola introduzione per poi arrivare alla fitoterapia. Tra noi, insomma, relatore, il grande professor Mauro Miceli e poi avremo anche degli ospiti importanti che ci introdurranno, ci aiuteranno in questa serata, tra cui Maurizio Armanetti, probabilmente vorrà dire due parole anche a Eugenio Iorio, che ha voluto essere presente per ascoltarci, il grande prof. Comunque, voi sapete da quanto sia dentro di me la passione di divulgare prevenzione, quindi quanto poi la rivoluzione epigenetica sia oggi diventata quasi una moda, perché tutti parlano di epigenetica, poi alla fine pochissimi riescono ad arrivare fino in fondo, perché epigenetica potrebbe essere anche il segnale che noi riceviamo, basta pensare a un pensiero che ci stressa o un pensiero che ci rende felici. Quindi abbiamo, pensate, la velocità di reazione che il nostro corpo ha a un pensiero positivo o negativo, a una situazione stressante o di gioia, di felicità. Pensate come reagiamo velocemente, come le nostre cellule, i nostri ricettori, la nostra pelle reagisce già a questi eventi. Faccio sempre un esempio del caldo e freddo. Quando fa caldo ci scopriamo, quando fa freddo ci copriamo. Basta pensare al desiderio oppure alla sensazione di fame o di sete. Insomma, tutti segnali importantissimi. Tra questi segnali importantissimi ci sono tutti quelli che vedete qui. Pochissimo parliamo di ossigeno, che è la fonte di vita, e pochissimo parliamo di infiammazione silente, quindi dovuta a una disfunzione mitocondriale. Oggi parleremo quali integratori, in particolare quali nutraceutici, parleremo molto di fitoterapia, del razionale, delle varie piante. Parleremo del perché, delle capacità antiossidante, fondamentali per alcuni nutraceutici. Il dosaggio, l'assimilazione alla biodisponibilità. Direi che le cose fondamentali, poi alla fine, sono proprio questo. Perché? E poi, se io ti do quell'integratore, è biodisponibile, è assimilabile, ha una capacità antiossidante, che certificati ha, è altamente naturale, eccetera, eccetera. Sappiamo già, e tantissimo in questa scuola, avete potuto apprezzare quanto sia fondamentale parlare di apporto di ossigeno, di apporto di idrogeno, di nutrienti. Purtroppo tutto ciò che noi mangiamo, respiriamo per produrre energia a livello mitocondriale, oggi è altamente condizionato dall'ambiente dove viviamo, dove lavoriamo. Pensate che l'ambiente dove noi viviamo dalle 4-5 volte più inquinato che all'esterno. Quindi pensate, quando poi parliamo di alimentazione, di nutrizione ottimale, quanto poi questa possa essere condizionata dalla rotazione precaria dove vengono coltivate questa frutta, questa verdura, oppure dagli insetticidi, dai conservanti, da tutto quello che voi volete mettere. Quindi noi veramente parliamo pochissimo di ossigeno, questa è una diapositiva prestata dal professor Iorio, ma come vedete di ossigeno non se ne parla solamente quando probabilmente siamo in fin di vita, se ne andrebbe a parlare prima. Possiamo consigliare uno stile di vita ottimale, è un po' per fare il riassunto di quello che abbiamo visto in tutti questi anni e in tutti questi mesi di formazione, ma parliamo che possiamo sicuramente consigliare e riuscire a convincere i pazienti a seguire uno stile di vita ottimale, ma sfido voi a convincere di cambiare lavoro, casa e città. Pensate oggi quando parliamo di città, di metropoli, cosa andiamo incontro? 200 terre di fuochi, 98.000 siti di amianto con amianto da bonificare. Parliamo di alimentazione fondamentale, ma la qualità di questi nutrienti, come possiamo scegliere i nutrienti di cui abbiamo bisogno in maniera mirata, personalizzata? È veramente difficile. Poi l'inquinamento di cui parliamo prima, le statistiche, non possiamo parlare solo di statistiche di contagio o di covid, ma dovremmo parlare anche di statistiche di mortalità dovute alle pandemie importanti come infarto, ictus. Dovremmo parlare, ne abbiamo parlato, di controllo dell'omocisteina attraverso vitamine fondamentali, di amminoacidi. Dobbiamo parlare, lo vedremo stasera, di difese immunitarie. Parliamo non solo di virus, ma anche di tutti gli altri fattori che condizionano il nostro sistema immunitario. Io vorrei parlare di cellule, di salute a livello cellulare, di tutte le cellule che comunque condizionano la nostra salute. La nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule, quindi la cellule della barriera endoteliale, epatiche, muscolari, connettivo, eccetera. Siamo centomila miliardi di cellule, quindi dovremmo partire dal DNA mitocondriale, dai mitocondri, dalla funzionalità mitocondriale. Non si parla di linea materna, di costituzioni dalla nascita. Proprio questo fine settimana il dottor Bartormeo Allegrini ha parlato molto della costituzione e pensate quanto questo possa essere importante nell'epigenetica, la trasmissione transgenerazionale a livello epigenetico, tutto quello che fanno i genitori verrà trasferito alle future generazioni, pensate a quello che si fa in gravidanza. e quindi come ci insegna la Società Italiana di Medicina Ambientale, l'ISD, i medici per l'ambiente, vedete piano piano noi stiamo trasmettendo quello che è nell'ambiente alle future generazioni e questo passaggio dal sangue a raggiungere il feto ormai è troppo comune a livello mondiale planetario. Allora tutte le malattie si sviluppano a livello della placenta, come ci insegna il professor Burgio, comunque insegna l'epigenetica e poi quello che dovremmo fare è tenere sotto controllo l'infiammazione. Sappiamo quanto questa sia veramente direttamente correlata alle varie problematiche. e il grande professore Iorio ci insegna quanto le reazioni redox e le molecole che proprio modulano questo stress ossidativo siano fondamentali per tenere sotto controllo l'eccesso di radicali liberi eccetera eccetera. Quindi segnali come proprio l'inquinamento, un segnale, 460.000 morti l'anno in Europa per inquinamento, sono statistiche di cui dovremmo tenere conto e anzi probabilmente questo è un prezzo altissimo che stiamo facendo pagare ai nostri figli. 371.000 casi di tumore maligno nel 2019, fattori di rischio che ormai sono risaputi, fonti ufficiali, vedete gli Arce, ma anche questo dell'Aio, eppure le cose che diciamo sono sempre le stesse, pochissimo si parla di radon, di amianto, ormai questo è diventato quasi una cantilena che per molti è diventato la normalità, vivere a contatto con queste sostanze, basta pensare a quello che da sempre sta succedendo nelle terre dei fuochi, a Bergamo, Brescia, a Vicenza che è una delle città più inquinate al mondo, in Europa sicuramente, pensate quindi come stiamo portando avanti una soluzione, abbiamo già detto che probabilmente 2050 verrà ridotto l'inquinamento nel mondo, ma ci credo poco. E quindi questo è un documento ufficiale del Senato della Repubblica, effetto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, malfrontazione di fetone naturale epigenetica, parliamo di campi elettromagnetici, ne parliamo sempre, ma cosa stiamo facendo per limitare i danni da campi elettromagnetici, per ridurre l'esposoma, soprattutto nei bambini? Non facciamo altro che utilizzare questi dispositivi come babysitter oppure li diamo per addormentarli oppure per tenerli impegnati e pensiamo che i nostri bambini siano molto intelligenti. In realtà pensate che il cellulare attiva le stesse aree cerebrali di zucchero e droga, quindi è un dopaminergico, quindi alla fine crea dipendenza, oltre a fare un danno importante. Come wifi, ormai siamo confinati negli alberghi, nelle case e non lo spengiamo mai di notte, il cellulare è sempre vicino al compino, attenzione perché poi dobbiamo fare i conti anche sulle riserve nutrizionali come l'ossigenazione, la carenza di nutrizioni, nutrienti specifici e quindi alcuni reali rischi congeniti da disfunzione mitocondriale e tutte le cose che voi conoscete molto bene, ma come facciamo a fare un esame di un pannello per mappare tutte queste carenze oppure problematiche? È veramente costoso. Allora un uomo saggio evita il problema, diceva Einstein. Allora ecco perché abbiamo bisogno di una medicina personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa ed ecco perché questa voglia di divulgare informazione per fare prevenzione, rimettendo al centro la salute delle nostre cellule, la produzione di energia a livello mitocondriale, giusto apporto di ossigeno e idrogeno, non caricare le batterie dei cellulari ma caricare i mitocondri e incominciare a parlare di ipossia, di ischemia riperfusione, del controllo dell'infiammazione, proprio per permetterci di regalare anni alla vita, perché è la qualità della vita anche importantissima, è il DNA mitocondriale che decide la longevità. Tutte le malattie sono legate alla diffusione mitocondriale e alla concausa epigenetica ed impatto ambientale. Anche a livello intestinale, vedete, poco si parla, si sente per esempio parlare di microbiota, certo, di probiotici sicuramente, ma vedete anche in questo caso, questo è uno studio importante, che ha dimostrato che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia i malattie esso correlate, quindi bisogna partire sempre di lì, dai disfunzioni mitocondriale, dal giusto apporto di ossigeno e di nutrienti preziosi, infatti i mitocondri sono fondamentali per contrastare le malattie, la salute mitocondriale per la prevenzione di malattie degenerative, l'invecchiamento e anche per contrastare le tossine ambientali. Quindi la Fondazione Medicina Mitocondriale ci dice attenzione, uno su 2.500 nascono con, tra virgolette, passatemi il termine, difetto di fabbrica, disfunzione mitocondriale. Ecco che ancora una volta ribadisco il concetto, non carichiamo, non pensiamo solo alla batteria dei cellulari, ma dobbiamo iniziare a caricare i mitocondri, anche stare attenti all'ereditarietà dalla linea materna, ora abbiamo visto che c'è anche una piccola concausa, anzi concausa importante da parte del liquido seminale linea paterna, proprio perché ormai liquido seminale maschile, oltre a avere un problema di infertilità altissima, il professor Luigi Montano ci dice che siamo vicini al 68% di infertilità e quindi problematiche a livello proprio della mobilità degli spermatozoi. Il segreto longevità parte sempre di qui, anche nei difetti cardiaci, nell'endotelio, vedete la satisfunzione endoteliale, i mitocondri legati al diabete, mellito, nella fibromialgia, mitocondri e stress sedativo, nella riprogrammazione epigenetica della cellula, è fondamentale l'apporto proprio di ossigeno, dico enzima Q10, ne parlerà magari anche il professor Mauro Miceli, quindi e poi lo sappiamo, tutto dipende dalla carenza di ossigeno, abbiamo testo di fisiologia medica, premio Nobel a Medicina, 2019 premio Nobel a Medicina, dato a Semenza e gli altri due scienziati, proprio per aver riscoperto il ruolo e l'importanza dell'ossigeno, la modificazione dell'HF1, eccetera, eccetera, a livello cellulare, ed ecco che noi proponiamo un approccio multifattoriale che prevede la medicina mitocondriale, cellulare, preventiva, la bionutrazione cellulare, l'epigenetica, la rigenerazione e riprogrammazione cellulare, la nutraceutica e la nutrigenomica. Di ossigeno ne abbiamo parlato abbastanza, è chiaro che dovremmo anche capire che la modulazione fisiologica, un'altra slide che mi ha dato in prestito il professor Iorio, è importante dove oggi si comincia a parlare di modulatori fisiologici e poi l'importanza di conoscere quali sono i fattori epigenetici che possono condizionare la salute di quella persona in maniera personalizzata. Ecco che, come avete visto, anche nell'ultima scuola di alta formazione, nell'ultimo weekend, sono portati vari casi clinici dove con l'utilizzo nell'anamisi di un dispositivo come S-Drive siamo riusciti a avere un quadro clinico completo di tutto quello che ha bisogno quella persona e quindi intervenire in maniera molto mirata. Allora, quando si parla di nutraceutici, noi ci dobbiamo chiedere quali integratori e perché dobbiamo integrare. La capacità antiossidante è importante, il dosaggio è importante, l'assimilazione e la biodisponibilità sono importanti? Certamente sì. Questo è un altro dono del grande professore Eugenio Luigi Iorio che già molto tempo fa ci aveva messo di fronte questo studio, attenzione, è la dose che fa il farmaco, quindi bisogna sempre passare da stare molto attenti agli iperdosaggi. Noi, come sapete, proponiamo un apporto nutraceutico, l'abbiamo visto l'ultima volta, con varie formulazioni spray sublinguali. Magari se poi siete interessati possiamo approfondirlo, ma ne abbiamo parlato anche la scorsa volta. Però, come vedete, la biodisponibilità spray e sublinguale sono da preferire, a meno che non si ha una tecnologia come quella della forma ecoloidale, come la vitamina C spray sublinguale che ti permettono proprio di fare la differenza. Nello stesso tempo, qui non mi divulgo perché non voglio togliere tempo al professor Maro Miceli, nello stesso tempo noi dobbiamo riappropriarci di queste importanti informazioni che sono quelle della vera prevenzione, partire dall'epigenetica e disfunzione mitocondriale e prevenire questa istangiopatia congenita, acidosica, enzima metabolica e le carenze nutrizionali che possono crearci poi infiammazioni. Ed ecco perché questa serata, e introduco il relatore della serata, questa serata perché noi vogliamo lavorare a 360 gradi sul supporto sistema immunitario. Quindi aumentare la difesa, la risposta verso gli agenti e soprattutto lo stress odattivo, le varie carenze nutrizionali e anche mettere a disposizione quel supporto fitoterapico in grado di fare un'azione personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. Cioè di mettere in moto quello che il grande Sergio Stagnaro dice chiaramente, dice in breve, per rafforzare il sistema immunitario anche contro il covid, per esempio, è necessario ottimizzare la difesa immunitaria. Dante, vabbè, lui la chiama terapia ristrutturante mitocondriale, dove il self-food naturalmente è un importante componente, per ottenere una difesa immunitaria ottimale è inevitabile innanzitutto intervenire ottimizzando la struttura e la funzione di mitocondri, in cui notoriamente è prodotta la maggior parte di energia. È impensabile un sistema di difesa immunitario efficace senza la fisiologica attività mitocondriale, resa tale magari da questa terapia. Poi se qualcuno è interessato di cosa si tratta questa terapia, basta che ci scrivano email, siamo a vostra disposizione. Naturalmente poi questa sera parleremo anche di fitoterapia e presenteremo uno dei nutraceutici messo a punto da un grande Maurizio Armanetti che ci parlerà proprio che ha queste caratteristiche di lavorare e modulare il sistema immunitario. Ne parleranno gli esperti in maniera più approfondita. Quindi lavorare sul sistema immunitario, lavorare sulla prevenzione dell'infiammazione, creare questa barriera di supporto che ci permette di reagire meglio agli agenti che possono interferire con la nostra salute. È inutile ripassare il sistema immunitario, ma non possiamo solo parlare di virus, dobbiamo parlare di batteri, di parassite, di cellule impazzite, dobbiamo parlare di organi, tessuti, di tipo di cellule, di gricoproteine, dobbiamo parlare di pelle, dobbiamo parlare di milza, di tonsille, di midollo osseo, di timo, di linfonodi, di infiammazione quindi del sistema immunitario, di globuli bianchi, degli anticorpi e non se ne parla mai. Ecco perché vogliamo approfondire e fare queste importanti serate di formazione e divulgazione per rafforzare il sistema immunitario e qui sapete meglio di me cosa bisogna fare. Nello stesso tempo sappiamo che se la correlazione di abitudini alimentari, stile di vita, lo sport, la limitazione del consumo di alcolici non fossero sufficienti a raffivare difese immunitarie, è possibile avvalersi delle risorse che la natura offre da sempre all'essere umano. Il variegato gruppo di piante medicinali d'azione immunostipulante è adattogena. Queste piante infatti rappresentano ottimo aiuto al rafforzamento del sistema immunitario indebolito. Anche qui modulatori fisiologici nutraceutici on demand. E parleremo questa sera di seli immuni in modo particolare, parleremo della tecnologia Medis. Naturalmente perché vogliamo parlare di natura, ritornare alla natura e quindi permetterci di fare del nostro lavoro una mission per migliorare la qualità della vita e aiutare le persone a vivere meglio.